Occhio a questo Milan ragazzi, occhio a questo Milan, l'ultimo anno le abbiamo prese in giro, le cose formali, hanno speso 250 milioni di euro, non hanno vinto niente, prima di tutto quando tu cambi tutta la squadra è certo che c'è bisogno per trovare i ritmi, per trovare il gioco e Milan questo sembra che adesso sono veramente arrivati anche con Gennaro Gantuso, in più ragazzi, questo lo dobbiamo dire, hanno preso un campione, Higuain è un cazzo di campione, è un grande campione, questo lo dobbiamo ammettere ragazzi, purtroppo a me Higuain a livello umano mi sta simpatico come l'insalata e la maionese che la fanno qui in Germania che fa cagare, fa schifo, così mi simpatico mi sta Higuain, però lo dobbiamo ammettere ragazzi, è un grande campione, anche oggi quel gol che ha fatto un movimento incredibile, mi pare Manolas lì doveva essere fermo così, era fuori gioco più ovvio diciamolo così, però diciamo Higuain in quella situazione ha avuto proprio l'istinto, l'istinto da killer, si muove nel momento perfetto, ok Lavar gli ha tolto quel gol ragazzi ma era un centimetro, era un centimetro, mancava proprio se si avesse, non so, un po' tagliato più le unghie, non era fuori gioco, perciò veramente Higuain in grandissimo movimento e poi alla fine come cazzo ha visto lì Cutrone, un passaggio alla Madonna lì nell'ultimo secondo, perciò Higuain è un grande campione, perciò occhio, attenzione a questo Milan, però in generale la Roma deluso ragazzi, non capisco quel primo tempo di merda, proprio schifoso quel primo tempo, e poi perché giocano con i 3-4-3, come spallete, sono tutti impazziti, a questa difesa a 3, in fase difensiva a 5, perché facciamo le basi, facciamo le cose che già, giocate con i 4-2-3-1 e basta, il secondo tempo era tutta un'altra Roma, con quella formazione proprio facevano cagare nel primo tempo, poi Olsen ragazzi, la Roma ha perso, forse con la vendita di Nainggolan che adesso è andato da noi, domani ragazzi vedremo il Ninja, spero di vederlo finalmente, guardiamo un po' come giocherà domani, ma diciamo veramente la Roma più perso nella mia opinione ha proprio con il portiere, se ti va via uno come Alisson e ti arriva uno come Olsen, ragazzi Olsen ma che cazzo ha fatto? Non so, prima della partita si è mangiato tutte le bruschette, aveva tutte le mani pieno di olio, ogni pallone scivolava, ogni pallone, non poteva trattenere un pallone, si imparava che aveva l'olio di oliva nei guanti, però è scandaloso questo Olsen, scandaloso, però anche Fazio l'ho visto male oggi, l'ho visto veramente male, Cutrone ragazzi, bel giocatore, interista lo devo dire, bel giocatore, un milanista, un milanista doc, si vede come dà grinta, come dà tutto, Spaletti l'avrebbe portato al 93esimo minuto, complimenti a Gattuso che ha avuto le palle, che l'ha messo dopo mi pare 80 minuti, che ha fatto vedere, no, nonostante che il Milan, questo lo dobbiamo ammettere ragazzi, nel secondo tempo avevano di nuovo un calo fisicamente, sono di nuovo calati, nonostante questo Gattuso ci ha creduto, l'abbiamo visto ragazzi con quale grinta Gattuso vive questo calcio, queste cose, io sono sportivo, le ammetto, ha fatto veramente impressione e perciò Cutrone è una bella favola, veramente un milanista doc, che segna un'altra volta, occhio a questo Milan ragazzi, dobbiamo veramente fare attenzione, Donnarumma come sempre sulla linea è forte, sì ragazzi, ma quando esce, ogni volta quando esce, non esce con sicurezza, esce sempre in maniera strana, è un buon portiere ma non è un buon calciatore, oggi nel calcio moderno un portiere deve essere anche un buon calciatore, questo Donnarumma non lo è, lo sappiamo, anno 99, giovanissimo, avrà ancora tempo, ma ogni volta quando esce, sì una volta ha salvato bene questa partita, ma normalmente quando esce fa cagare, anche con i piedi, non sa fare un passaggio, Donnarumma a me ancora non convince, ragazzi ripeto, sarà una grande lotta per questa Champions League, sarà veramente difficilissimo, e il Milan è tornato, sempre solo Forza Inter, scrivano nei commenti ragazzi voi cosa ne pensate, e ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi!